E' giugno del 1972, Eruville-en-Vexin è un piccolo borgo nel nord della Francia, non lontano da Parigi. Lì c'è un magnifico castello del XVIII secolo, un luogo che ha un'importanza storica. Si dice che Chopin ci abbia vissuto, che proprio nelle stanze di quel maniero abbia consumato la sua relazione con Georges Sand. Si dice anche che Van Gogh era rimasto altrettanto affascinato da quel luogo che aveva poi immortalato in uno dei suoi quadri, e non a caso proprio il grande pittore è sepolto nei pressi proprio di Eruville-en-Vexin. Negli anni 60 quel castello è diventato anche uno studio di registrazione importante, ma con una fama sinistra. Si dice che una volta David Bowie, che era lì per registrare un album, avesse avuto incontri ravvicinati con fantasmi o spiriti maligni. Però proprio in quel castello, nel giugno del 1972, Elton John decide di andare per registrare l'album che sarebbe chiamato Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. E lì registra una delle canzoni destinate a diventare uno dei suoi più grandi successi. Ispirato sia dalla musica dei suoi grandi eroi dal rock'n'roll degli anni 50, sia da una grande hit Eagle Rock di una band australiana, Daddy Cool, mette insieme una canzone che si chiamerà Crocodile Rock e che è un tributo esplicito a Bill Haley e ai grandi maestri del rock'n'roll degli anni 50, tanto che nel ritornello fa una citazione di un brano famosissimo, Speedy Gonzales di Pat Boone, talmente evidente da far sì che Elton decida di venire a patto con gli autori ed editori del brano originale. In ogni caso, nel giro di pochissimo, Crocodile Rock va in testa alle classifiche e diventa uno dei grandi cavalli di battaglia del futuro paronetto inglese. Grazie a tutti. Grazie a tutti.